24 persone ritenute legate alla cosca Mancuso di Limbad in provincia di Vibo Valencia sono state fermate in un'operazione condotta dall'Oscico della squadra mobile di Catanzaro, dai carabinieri del ROS e dai finanzieri del Gigo di Catanzaro e Trieste. Tra i fermi disposti dalla DDA ai vertici della cosca imprenditori vibonesi dei settori siderurgici e turistici e un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Tropea. Eseguiti anche sequestri di beni e aziende per un valore di 35 milioni di euro. In particolare i finanzieri hanno sequestrato nel Vibonese alcuni supermercati, un panificio industriale, un'azienda di conservazione alimentare ed un villaggio turistico. L'indagine che ha portato al sequestro ha preso spunto dalla scoperta di una serie di movimentazioni sospette su alcune banche triestine. Gli accertamenti dei finanzieri hanno portato poi ad individuare alcune persone di Vibo quali autori delle movimentazioni. Da alcuni accertamenti di natura bancaria su una possibile ipotesi di infiltrazione appunto del clan poi oggetto di investigazioni dove si è ripotizzata appunto un'ipotesi di riciclaggio in quel territorio. Questo poi non si è concretizzato in effetti, le indagini sono sviluppate poi sul territorio Vibonese dove poi si sono verificati sia i provvedimenti restrittivi verso le persone che i sequestri di natura reale verso i beni da questi posseduti.